La Guardia di Finanza ha scoperto a Caronia un'azienda ittica che ha illegittimamente beneficiato di finanziamenti comunitari erogati dalla Regione Sicilia per 1.700.000 euro. I fondi dovevano servire per attuare la cosiddetta pesca intelligente, ma alla realtà dei fatti si è scoperto che l'azienda ha messo in piedi una truffa ai danni dell'Unione Europea. A scoprire lo stratagemma che ha fruttato al titolare e ad altre sei persone una denuncia sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Messina. Nel corso di un'indagine avviata nel 2020 diretta dalla Procura della Repubblica di Patti e condotta dalle fiamme gialle della tenenza di Sant'Agata Militello. Le indagini hanno consentito di far luce sul comportamento del titolare della ditta e di alcuni imprenditori compiacenti denunciati per truffa per ottenere erogazioni pubbliche. Agli indagati sono stati sequestrati beni per 700.000 euro. I contributi regionali erano finalizzati a realizzare un impianto di acquacoltura con bacini di acqua dolce per l'allevamento di pesci del tipo persico e storione destinati poi alla successiva vendita. Il responsabile dell'azienda ittica, grazie anche alla complicità delle ditte appaltatrici dei lavori, in alcuni casi riconducibili apparenti, ha rendi contato alla regione siciliana il sostenimento di costi ampiamente superiori a quelli effettivi, facendo risultare come effettuati svariati pagamenti che nella realtà non erano mai avvenuti. Inoltre le somme formalmente pagate agli appaltatori per la realizzazione delle opere venivano ritrasferite al titolare dell'azienda ittica attraverso fatture per prestazioni mai effettivamente rese.